Continuano gli appuntamenti del Settembre Culturale al Castello Angioino Aragonese di Agropoli e per la sesta serata e ospite la giornalista televisiva Licia Colò che ha presentato il suo libro Per te io vorrei. Per questo sesto appuntamento della settima edizione del Settembre Culturale al Castello quest'anno dedicato, lo rimarchiamo sempre, al confinato Franco Antonicelli la partecipazione di Licia Colò, un personaggio pubblico legato molto al mondo della televisione però è importante rimarcare una personalità di spicco del mondo culturale italiano per il suo forte impegno a difesa e a valorizzazione del patrimonio culturale e di quelli che sono i valori essenziali per ogni cittadino a difesa degli animali a difesa del patrimonio verde della nostra bellissima nazione. Diamo appuntamento ai telespettatori di Cilento Channel al prossimo appuntamento del Settembre Culturale. Questa sera il Castello Angioino Aragonese, splendida location della settima edizione del Settembre Culturale ospiterà il professor Paolo Crepe che sarà intervistato dalla dottoressa Roberta del Duca. Una bella persona di grande valore, di grande sensibilità che ci ha fatto viaggiare nel mondo e soprattutto ci ha fatto conoscere delle cose che probabilmente viaggiando non si sarebbero scoperte e conosciute perché è andata nel particolare, negli ambienti non turistici, è entrata nei popoli, nella vita delle persone di tantissimi stati e tantissime comunità mondiali. Licia Colò al Settembre Culturale di Agropoli con per te io vorrei un libro che parte dal rapporto tra madre e figlia ma che diventa poi il racconto di quanto di bello il mondo è in serbo per ogni persona. E questo dovrebbe essere proprio lo scopo. Tante cose belle, tante cose anche brutte, però l'importante è conoscere il mondo e non pensare che tutto quello che abbiamo attorno a casa è quello con il quale ci dobbiamo rapportare. Attraverso le pagine di questo libro qual è il messaggio più importante che vorrebbe lasciare a sua figlia ma a tutti coloro che leggono poi il testo? Mi piacerebbe che tutti i genitori insegnassero ai figli a non smettere di sognare perché pensiamo che i sogni siano patrimonio dei bambini invece i sogni devono essere un patrimonio di tutti perché questo mondo, questa società ha bisogno di essere cambiata e ha bisogno quindi di grandi sognatori. Dobbiamo dare la speranza in un momento di grande difficoltà però la speranza non è rimanere con gli occhi chiusi è guardarsi intorno un po' come dicevo prima conoscere le cose e pensare a come cambiarle e come migliorarle. Un saluto a Cilento Channel Ciao Cilento Channel a tutti voi che lo seguite e siete fortunati perché il Cilento è spettacolare, è meraviglioso c'ha solo un difetto, si mangia troppo bene quindi si ingrassa e poi bisogna fare un sacco di fatica per dimagrire. Comunque evviva il Cilento, evviva Cilento Channel. Ciao